Le istituzioni sono completamente assenti, il Comune di Taranto con l'amministrazione Melucci poco nulla ha fatto per i più bisognosi. Meno male che c'è il mondo del volontariato, che ci sono delle realtà che davvero fanno tantissimo per i più bisognosi. E' il caso per esempio della comunità Madonna della Pace, si trova a Paolo VI, si trova nel parco del Mirto e dà assistenza, dà aiuto, dà un pasto caldo a tante persone, soprattutto anziane, a quelli abbandonati. Vedete, mi candido sindaco perché voglio dare una mano alla mia città e voglio dare una mano anche a chi soffre. Sì, perché io vedete nel 1998, quindi 98, 8, 18, 22, stiamo parlando di 24 anni fa, io ho svolto il servizio civile in Caritas e so cosa significa aiutare i più deboli. L'ho fatto col cuore, non è che l'ho fatto perché dovevo candidarmi sindaco, l'ho fatto perché ci credevo e quando vedo queste realtà davvero mi si apre il cuore. Visitiamo questa splendida comunità Madonna della Pace. Siamo entrati e qui c'è un bel salone che serve per stare un po' seduti, c'è un tavolo, c'è una poltona e soprattutto c'è l'altare dove appunto si celebra la messa. È un modo appunto per stare insieme e per raccogliere e per raccoglierci pregando. Pensando che Gesù è nato in una stalla, non è nata nel lusso, abbiamo uno dei volontari, ecco, cosa fate in concreto in questa comunità? Cerchiamo soprattutto di accogliere, di dare ai più bisognosi la conoscenza di avere un posto accogliente. Un pasto caldo, stare un po' seduti qui durante il giorno. Sì, sì. Diciamo, stare in armonia, in allegria, con gioia. Non sentirsi soli. No, verso chi è soprattutto il padrone di casa che è Gesù. Ecco, la cosa triste è che queste cose dovrebbe farle innanzitutto il comune, invece il comune è molto spesso, quasi sempre assente. E meno male che c'è il mondo del volontariato, meno male che c'è il vostro buon cuore. Eh, innanzitutto un ringraziamento va fatto anche attraverso il Signore che ci ha fatto incontrare Don Massimo. Massimo, cara mia, lo conosco da tanti anni. Per questo progetto, diciamo, che si sta sviluppando man mano e che dà la possibilità a molti, soprattutto a incontrare la fede. Quante persone più o meno vengono? Eh, siamo in molti comunque, molti partecipanti. Soprattutto anziani. Sì, sì. Anziani soli. Sì, anche anziani, tipo c'è la nostra comunità anziana che è immacolata, che è stata molti anni con Don Massimo. Poi ci sono anche altri volontari da cinque, da forse di più, da sette, otto anni prima di me. Sono qui da cinque. E diciamo... I date da fare. Sì, sì, sì. Ci impegniamo. E poi c'è Giovanni che è anche lui da due, tre anni in più che sta qui. Ed entriamo ora nella sala cucina, dove si sente un bel profumino, un sapore fantastico, un sapore di cucina, un sapore di casa, un sapore di famiglia, un sapore di amore. E vediamo un volontario che si appresta a preparare un bel piatto per le persone che hanno bisogno e che riceveranno, oltre che un pasto, una carezza di affetto, di amore. Lei quanti anni ha? 73, il 22 marzo del 74. E la cosa fantastica è che è a disposizione della gente. Sempre. Tocca a me questa settimana, siccome stiamo facendo attorno un po' settimane ciascuno, per non far caricare tutto su una persona, e allora questa settimana tocca a me questa settimana. Ci si sente felici nell'aiutare gli altri? Ci si sente felici perché aiuto gli altri. Per questo mi sento felici. Purtroppo, molte volte il comune, le istituzioni, gli enti non danno nulla a questa gente. Non ci mettiamo in tasca proprio, nel senso che quello che è disponibile... Non fate a spese vostre col cuore. Certo che ci mancherebbe, non solo col cuore. Lo facciamo, diciamo, che... Anche economicamente, mettendoci la materia prima. Le pensionate sono, purtroppo, anche se non è che uno ha una grossa pensione, però... Quel poco che ha lo mette a disposizione. Fa la spesa, compra... Ci mancherebbe, assolutamente. Ecco, vedete, questo dovrebbero fare un ente civico, un comune, dovrebbero fare le istituzioni, e meno male che... Le istituzioni sono assente, sono le istituzioni, perché qui c'è bisogno, è una comunità... Però ci sarebbe bisogno... Sì, certamente, noi abbiamo due o tre persone che se la fanno addosso, tutte cose... Non problemi... Bisogna salire... Fate tantissimo, complimenti col cuore. Sì, 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 lo facciamo senza nessun rimpianto, perché è il nostro dovere aiutare quelli più deboli. Panchine divelte, rotte, c'era una volta qui una panchina, c'era una volta. Ma lo stesso potremmo dire, a poca distanza, vedete, altre panchine in fondo proprio, lo vedete, altre panchine rotte, a poca distanza qui. Una situazione incredibile, davvero grave. Un'area, quella del Parco del Mirto, più grande di quanto si potesse immaginare. Qui, praticamente, vedete la staccionata completamente asportata. Vedete, qui c'era questa staccionata di legno che delimitava l'aria e la metteva in sicurezza, perché se no si potrebbe davvero, come dire, cadere nel precipizio. E questa staccionata di legno è stata asportata, derubata, sicuramente quando ci sono i falò, i fuochi di San Giuseppe e quant'altro, qualche vandalo, qualche incivile, più di qualcuno, ha ritenuto opportuno prendere questa legna e usarla, appunto, per arderla, togliendo, appunto, la recinzione. Quindi, dicevo, ci sono, lo sottolineo per l'ennesima volta, problemi di vivibilità, anzi di invivibilità, che derivano dalla mancanza di sicurezza.